Ben ritrovati sul canale Il Vino Alcalice, il vino con semplicità ma nel modo giusto. Sono Gigi, sono un sommelier e in questo video parliamo dei gesti che accompagnano la degustazione del vino per fare bella figura ma senza esagerare. Nei video in cui ho introdotto le nuove schede analitico-descrittive del vino, prendendo ad esempio quelle dell'associazione italiana Sommelier, partendo appunto da questo testo, ho parlato della tendenza al cambiamento del linguaggio nella degustazione. Cambiamento dettato dalla volontà di avvicinare maggiormente il vino e la sua analisi ad un numero di persone maggiore. Nel mio canale esiste già una playlist che è una sorta di mini corso di degustazione, si tratta però di video che pian piano lasceranno il posto a dei nuovi video che via via si baseranno sulle nuove schede avendo come riferimento, come dicevo, quelle dell'AIS. Chiarisco, come sempre ho fatto, che coloro che vogliono avvicinarsi ad una degustazione professionale possono rivolgersi ai corsi ufficiali ben più approfonditi e completi rispetto ai video che propongo io. I miei video hanno la semplice finalità di semplificare il più possibile una materia come quella della degustazione che è affascinante, ricca e dinamica e spesso può sembrare particolarmente ostica. Quindi chi non intende affrontare un percorso professionale attraverso i miei video di fatto può quantomeno farsi un'idea di cosa voglia dire degustare un vino. Dunque in futuro arriverà un nuovo mini corso sulla degustazione ma ad oggi partendo anche dai video già presenti nel canale propongo le novità presenti nel nuovo testo AIS sulla degustazione partendo con questo video dai gesti alla base della degustazione la gestione del vino nel calice e del calice stesso per poter procedere ad una buona analisi. Iniziamo però appunto a parlare dei gesti della degustazione. Prima di tutto i gesti legati all'esame visivo. Il calice va tenuto fermo mentre il vino viene versato e mentre il vino cade nel calice già possiamo vedere alcune particolarità rispetto all'aspetto visivo. Il calice poi va alzato all'altezza degli occhi orientandolo possibilmente verso una fonte luminosa. Qualora il vino sia ricco di colore possiamo inclinare il calice di 45 gradi in avanti sopra anche ad esempio a un foglio bianco se a qualche scritta andiamo ancora meglio perché possiamo valutare la limpidezza anche in base alla definizione dei caratteri che passano attraverso il vino. Quindi in base alla definizione del nostro carattere potremo capire il livello di limpidezza del nostro vino. Inclinazione in avanti del calice a 45 gradi sul foglio bianco o su una superficie bianca ci permette anche di valutare il colore del nostro vino. Il colore lo vediamo bene nella parte centrale del calice la parte che possiamo chiamare anche cuore ai bordi e sull'orlo dove abbiamo meno vino riusciamo a vedere le sfumature ulteriori del vino che abbiamo davanti. Altro gesto che accompagna la degustazione del vino è la delicata rotazione che ci permette di valutare la consistenza del vino anche grazie all'effetto marangoni che ci lascia analizzare le eventuali lacrime e gli archetti che restano contemporaneamente sui bordi del calice una volta che la rotazione si è fermata. Ricordiamo anche in questo video che se abbiamo davanti un vino con le bolle la rotazione non va fatta. Andranno valutate se si tratta di un bianco o di un rosato le bollicine a calice e vino fermi. Passiamo poi alla gestualità legata all'esame olfattivo. Il calice per sua natura è uno strumento adatto alla percezione dei profumi. In una prima fase dell'esame visivo il calice va portato al naso senza rotearlo in modo da sentire i profumi immediati che ci arrivano. Poi possiamo lasciare passare 15-20 secondi e a quel punto rotteiamo il calice in modo che ne escano ulteriori profumi. A questo punto possiamo fare all'interno dell'analisi olfattiva una cosa in più e cioè mettere in bocca un sorso del vino in modo da avere la possibilità di percepire anche gli aromi a livello retronasale. Quindi odori e profumi li identifichiamo per via diretta ispirando dal calice mentre gli aromi e il retronasale in fase espiratoria quindi mettendo un sorso in bocca espirando e sentendo a livello retronasale cosa ci resta. Passiamo infine alla gestualità legata all'esame gusto olfattivo. Il vino va portato alla bocca in piccola quantità si può anche pensare di avvinare la bocca con un sorso precedente se si ritiene deve poi lambire le varie parti della cavità orale per farlo ci aiutiamo con la lingua poi lo si porta nella parte anteriore della bocca e lateralmente attraverso i denti a bocca chiusa si inspira un po' d'aria. A questo punto c'è chi deglutisce e chi invece spelle il vino in un raccogli vino. Ecco questi sono i gesti un po' legati alla degustazione. Con i prossimi video ci addentreremo nei termini soprattutto quelli nuovi che ci permettono di valutare il vino che stiamo degustando. Salutandoci invito chi ancora non l'ha fatto è di iscriversi al canale Il Vino Alcalice e cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati sulle nuove uscite. Come sempre se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile lasciate un like cliccate sulla campanella per rimanere aggiornati sull'uscita di altri video e se vi fa piacere lasciate pure i vostri commenti e le vostre considerazioni sotto a questo video. Alla salute! A presto! Grazie a tutti.